Una penna stilografica dell'azienda americana Navalur ex Narval, estetica particolare, originale e buone funzionalità i suoi punti di forza. Nel seguito del video la mia recensione. Innanzitutto ringrazio Francesco, a molti noto come stilorso, autore dei video dell'omonimo canale qui su YouTube. Francesco mi ha donato questa penna ormai parecchio tempo fa ed effettivamente mi scuso per averci impiegato così tanto per provarla e recensirla. Tornando alla penna in oggetto, la linea Key West è dedicata ad alcune delle Florida Kiss, un arcipelago di isole con clima tropicale a sud del territorio continentale della Florida. Il modello Key Largo ha un colore prevalentemente blu glitterato. Questo qui invece è il modello dedicato all'isola islamorada. In questo caso il fusta è giallo oro, sempre glitterato, una sorta di richiamo alle splendide spiagge dorate. Questa è la confezione cartonata e devo dire abbastanza ben realizzata, un cartone abbastanza spesso, il simbolo della Navalur, qui la scritta Navalur di lato e qui l'etichetta insomma con il nome del modello. Anche se, come ha fatto notare anche stile orso, sembra una confezione generica e fatta un po' per diverse penne, tant'è che, carino questo diciamo l'accetto per tirarlo fuori, tant'è che all'interno oltre alla penna si trova questa chiavetta che normalmente viene data in dotazione per le penne a pistone stantuffo per fare dell'ordinaria manutenzione. Queste qui invece ha il caricamento con la cartuccia o il suo converter. Il materiale è una resina scintillante, traslucida, leggermente trasparente, si lascia intravedere anche l'interno, cosa c'è al suo interno. Qui abbiamo la veretta e la clip che sono placcate oro. Il pennino, andiamo ad aprirla, si apre a vite. Questo è un pennino misura 6, loro dicono realizzati in house, realizzato in house direttamente dalla nava, allora anch'esso è placcato oro. Il sistema di caricamento, qui vediamo, è con il suo converter, questo è il converter che ha in dotazione, curiosamente è molto simile con i converter della Ginao, questo è un converter Ginao, solo che qui c'è la scritta Ginao, qui no, però per il resto devo dire che assomiglia moltissimo. È rifinito un po' meglio perché qui ha un cerchietto, ecco andiamo ad aprirlo sperando di non far danni, una parte di rinforzo in plastica più dura sulla parte dell'attacco, però sostanzialmente è molto molto simile, è questa parte qui dorata rispetto a quello argentato invece della Ginao. È compatibile anche con le cartucce, sì, così come dichiarato dalla casa, andiamo a richiuderla, qui si avvita metallo su metallo, invece quest'altra parte qui che va ad avvitare tutto il fusto sul cappuccio, invece qui l'interno credo sia in resina, quindi si avvita con metallo su resina. Dicevo è compatibile anche con le cartucce, però ho notato che le cartucce internazionali se sono già perforate, se sono vuote e poi riempite magari a parte, vi entrano, altrimenti entrano con molta fatica, non si riesce a perforare bene. Queste le cartucce Ginao vanno un pochino meglio, ma anche queste è meglio se siano già perforate, perché evidentemente c'è quella minima differenza e non permette di perforare bene, invece con il suo converter e con i converter Ginao devo dire che funziona perfettamente. Andiamo a vedere un po' le misure, la lunghezza della penna da chiusa è 143 mm, da aperta sono 126 mm e postata a 166 mm. Il cappuccio si posta e regge abbastanza bene, ma basta al minimo d'urto perché si va poi a staccare facilmente, quindi è un po' un rischio comunque andarla a postare. Il diametro del fusto è di 12,5 mm, credo che sia nella parte più larga del cappuccio. Poi la sezione invece di impugnatura è 9 mm nella parte più stretta prima di questo svaso, che serve per tenerla più agevolmente per evitare che le dita vadano a scivolare, anche perché il materiale è molto liscio, e nella parte più alta qui è di 10,5 mm. Il peso, senza inchiostro vuota, è di 25,5 grammi. L'estetica, come vedete, è abbastanza originale, con questa finitura della resina leggermente trasparente, tutta con i brillantini glitterati, insomma poi sono brillantini che hanno diversi colori. Devo dire che è un modello che può piacere o meno in base a, poi l'estetica è una cosa del tutto personale, però sicuramente è interessante. Andiamo a vedere un po' la prova di scrittura, prendiamo a tal proposito un quaderno, un blocco della Rodia, questa abbiamo detto che è la Navalur, Navalur Key West, Isla Morada, Isla Morada, l'inchiostro è un Parker Quink, Blue Black. Anche se nel tempo, devo dire, questo inchiostro forse è diventato più chiaro rispetto a quello che era inizialmente, o forse è soltanto una mia impressione. Il pennino, devo dire che ha una punta estremamente scorrevole, scorre davvero bene, non ci sono problemi di salti, di perdita di inchiostro, l'inchiostro che dà è abbastanza generoso, quindi devo dire che si comporta bene in tal senso. L'unica cosa è che bisogna tenerlo sempre con la giusta inclinazione, perché è sì molto levigato, quindi comunque scorre benissimo, anche su altre carte, ma non è arrotondato, quindi come lo si va a inclinare un po' in senso anti-orario, in senso orario, tende a non scrivere, quindi ti obbliga comunque a tenerlo sempre nella posizione corretta. Per il resto è morbidissimo e devo dire che funziona davvero bene ed è un piacere scriverci. Un'ottima penna in tal senso, credo che ci sia proprio questa cura maggiore dei particolari, non so se abbiano realmente realizzato tutto il pennino o l'abbiano semplicemente curato, rendendolo più levigato nella parte della punta in iridio. Quindi come pro di questa penna direi che ha un pennino M, questa misura M viene riportata, non so se si vede qui sul lato della costa, insomma qui in piccolino, è un pennino di misura M, è veramente burroso, scrive anche in reverse, andiamo un po' a vedere reverse, devo dire che scrive abbastanza bene, c'è un po' di feedback in più però funziona bene anche in reverse, ha una estetica originale come ho già detto, la clip è buona, pienamente utilizzabile e devo dire che ha quella rigidità giusta ma non eccessiva, è davvero funzionale come clip. Il converter è di discreta qualità, devo dire che funziona abbastanza bene, poi all'interno ha anche una molla che serve a rompere la tensione superficiale dell'inchiostro per farlo scorrere meglio, per evitare che si addensi solo da una parte. Per quanto riguarda il contro direi che il cappuccio calza male e l'impugnatura può essere, anzi lo è effettivamente, è un po' scivolosa questo sì, all'interno non l'ho detto ha un contro cappuccio nella parte interna che serve per evitare che si asciughi troppo facilmente. Ancora due parole sul marchio e l'origine, l'azienda era conosciuta inizialmente con il nome narval, quello che in inglese è il nome del narvalo, un cetaceo simile nella forma al delfino, ma riconoscibile per il fatto di avere un lungo corno attorcigliato nella parte frontale. Qualcuno lo considera come una sorta di unicorno del mare, ma narval è un termine troppo comune e le ricerche sul web difficilmente portavano al sito del produttore, quindi per semplici questioni commerciali l'azienda cambiò il nome in navalur, che indica lo stesso animale ma in lingua islandese. Come già detto, navalur è una società statunitense, ma non è dato sapere dove avvenga fisicamente la produzione dei suoi modelli. Molto probabilmente, ma posso solo ipotizzare, siano fatti in Cina. Nel complesso a me piace, mi è soddisfatto, grazie ancora Francesco e anzi se volete vi invito ad andare a vedere anche la sua recensione di questo specifico esemplare anche sul suo canale. A questo punto spero che il video sia piaciuto, che possa essere risultato utile. Vi saluto, vi do un arrivederci al prossimo video e vi ricordo che se volete potete mettere un mi piace al video e magari anche iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Ciao a tutti, a presto!